Mi sono andato via del mio paese perché avevo tanti problemi. Oggi mi ritrovo in un nuovo mondo. Dove vorrei costruire il mio futuro? Vorrei avere un lavoro. Vorrei vivere bene. Avere tanti amici. Avere tantissimi amici. Avere tanti amici. Avere tanti amici. Avere la qualità di vivere. E per l'unione di altre persone. E di poter aiutare gli altri. Je remercie tutti quelli che si battono per la paia nel mondo entier. Ringrazio tutte le persone che lottano sempre per la pace del mondo. C'è a toi che io parlo. Sto parlando con te. C'è a te che non si rifugiati. Tantre un po' di mer a ceux che li sono. Aiuta almeno quello che lo è. Per qu'il puisse s'integrare nella società. E per poter integrarsi nella società. Vi ringrazio. Grazie.